Bentornati per un'altra settimana di carriera e di minima interazione sociale. Sappiamo quanto possa essere difficile trovare un posto dove sentirsi a proprio agio e trovare un lavoro che vi tratti per lo più con rispetto e solo raramente con disprezzo. Per questo motivo siamo entusiasti di informarvi che avete fatto un lavoro fantastico la prima volta per potervi riavere con noi. Inoltre non c'erano altri candidati, quindi si metta comodo e sia motivato. Perché non avete ancora visto nulla. Grazie. 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 Grazie.